Questi sindaci, quindi come parte politica, come primi paladini, i primi difensori dei nostri territori, quello di dover comunque superare questi mesi, questi tre mesi, o meglio questi due mesi, da quando si è parlato dell'atto aziendale, da quando è stato presentato a quando sarà approvato, una volta che ci saranno effettivamente non più nuove linee di Lida, dicendo delle cose, dico poche cose, ma veramente in modo chiaro, spero di essere molto chiaro, meno polemiche, meno enunciazioni sui giornali, meno conflittualità, meno scarico a responsabilità e tanto più tempo da dedicare alle azioni che bisogna fare, in momenti criti, in momenti difficili, bisogna avere dei programmi segni, cercando di non guardare soltanto al proprio dicendo, ma che ci sia una rete che possa garantire l'emergenza, quindi la salute a tutti i cittadini. Quindi come sindaci in questo periodo abbiamo cercato anche insieme a tutti